Si può quantificare in termini di minuti risparmiati? Ma si può, dalla statistica fatta nel periodo di prova si ha un vantaggio netto standard di 60-90 secondi che in caso di codice rosso farà differenza. Arrivare sul posto da parte dei soccorritori sanitari in caso di emergenza sarà più facile grazie ad un sistema di geolocalizzazione elaborato dal comune di Arezzo. Un lavoro complesso che ha riguardato tutto il territorio del comune capoluogo e che adesso consente, con un unico clic, di localizzare il sito della chiamata al 112 nel minor tempo possibile. Il raggiungimento è immediato e soprattutto è a errore zero, cioè il margine di errore di un metro. La segnalazione quindi è una segnalazione che permette al mezzo di soccorso, noi pensiamo all'ambulanza come mezzo più importante, di raggiungere l'abitazione, il luogo necessariamente dell'emergenza in tempi tali da poter arrivare prima possibile, con più agio possibile, senza errore. Cosa importante quando si parla di città sicura, credo che la sicurezza in questo sia determinante come altre questioni. Il sistema consente di individuare con precisione ogni abitazione del territorio comunale, e di localizzare tutti i numeri civici anche nelle località dove non ci sono denominazioni stradali. Attraverso una nuova mappa interattiva gli indirizzi vengono tradotti in coordinate geografiche e dalla sala operativa del 118 possono essere inoltrate direttamente ai mezzi di soccorso. Di fatto ci siamo sempre basati su delle mappe tipo Google Map e altre mappe di altre piattaforme che si integrano danno la strada corretta e il numero civico presumibilmente in quella zona. Però con questo sistema abbiamo la certezza matematica, perché il lavoro del Comune di Arezzo è stato veramente imponente, abbiamo la certezza di andare direttamente alla portone di casa dell'utente che chiamo. Ecco, questo riguarderà solo il territorio del Comune Capoluogo, sarebbe auspicabile che si potesse allargare? Beh, certo, sarebbe un valore aggiunto, anzi, colgo l'occasione per chiedere e lanciare questo appello anche agli altri Comuni della provincia di Arezzo di poter fare un lavoro del genere come questo che è stato fatto dal Comune di Arezzo. Ecco, questo ovviamente è qualcosa in più nel Comune Capoluogo, ma se si formula il 112, insomma, il soccorso arriva. Esattamente, il sistema di emergenza della sud-est è un sistema virtuoso, noi abbiamo già un sistema di numero unico dell'emergenza, il NUE, che è l'112, che gestisce le chiamate e geolocalizza il chiamante. Ovviamente con un sistema come questo messo a disposizione dall'amministrazione Aretina, significa, come diceva Samuele Pacchi, individuare correttamente la porta di casa degli utenti con la possibilità di errore di un metro, quindi capite bene che assolutamente il tempo è prezioso in questi casi. Grazie a tutti.